Qua è un toccato? Ma qua non si è meglio me scrivermi 5. Ma tu la sai? E' la scatola che non si risponde. Ma se la ne scatola... Ma come va a me scriverci? Mi divina in condizione migliore diciamo che la Finanza e Duca pestriscia la notizia che la sbaglia e se la sbaglia... Per me... Per me è stato una sfruttia alla fine. E nel frattempo arriva il nostro progettore, Grazie. Grazie. Grazie.